Ciao a tutti sono Amo gli italiani, benvenuti alle ultime notizie di oggi Non gli va proprio giù, è ormai evidente il fatto che secondo Massimiliano Varese a Edi Baci sia presa e molto da lui Peccato che lei abbia ribadito più e più volte il contrario, persino in diretta al GF 2023 Non mi piaci, le sue parole dure in puntata. Non basta il confronto in camera da letto ha preoccupato i fan Per chi ha guardato la diretta di Mediaset Extra negli ultimi giorni la situazione è più che chiara Sebbene Alfonso Signorini, per fame di dinamiche al GF 2023, e Massimiliano Varese, probabilmente per un fatto d'orgoglio, credano che Edi Baci nasconda la cotta, lei continua a negare Lui per i fan sta esagerando.GF 2023, teso faccia a faccia tra Varese e Haidi Sono giorni che la 25enne si sta sfogando con i coinquilini più cari, non saprebbe più come far capire al 47enne di non provare alcun tipo di interesse nei suoi confronti o almeno non in senso sentimentale La geffina, per Massimiliano Varese, sarebbe impaurita per chissà qualche motivo e, soltanto per questo, non ammetterebbe di essere presa quanto lui Una faccenda che non trova fine ormai da diversi giorni.Lei si sente costantemente osservata nello spiato appartamento del GF 2023 e non ne vuol più sapere L'attore è partito troppo in quarta e continuerebbe a credere in qualcosa che, a detta di Haidi Baci, non esiste Così ore fa ha deciso di affrontarlo nuovamente in camera da letto per aver più privacy Luzzi. Erano seduti ai margini del letto e dopo altri sguardi hanno iniziato un confronto che ai tanti fan non è piaciuto Parla, guardami negli occhi, le ripeteva la cerrimo nemico di Beatrice Luzzi Non ti faccio niente, sono sempre stato gentile con te. Voglio che butti giù le barriere, ancora Un tono che ha indispettito sul web, dove lo stanno accusando di essere stato fin troppo pressante, oppressivo con la giovane Un'insistenza che molti hanno definito inquietante ed intollerabile Se ne faccia una ragione, era inquietante a letto, altro che guru, si svegli, oppressivo Lei mi ha fatto pena, aiutatela, la reazione di molti su Twitter Posa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video